Avrebbe aggredito la compagna che per proteggersi si sarebbe chiusa a chiave in un'altra stanza della loro abitazione. Una vicenda di presunti maltrattamenti, quella ricostruita a patti dai carabinieri della locale compagnia guidata dal capitano Salvatore Pascariello. Alla fine dello scorso novembre i militari dell'arma erano intervenuti dopo una chiamata al 112 per un'aggressione subita da una donna extracomunitaria ad opera del convivente, un uomo di 54 anni, tra le mura domestiche. La donna, secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, era riuscita a chiudersi a chiave in un'altra stanza della casa dopo l'aggressione del compagno in attesa dell'arrivo dei carabinieri. I militari della sezione radiomobile intervenuti sul posto hanno trovato l'uomo davanti l'abitazione e lo hanno bloccato. Quando sono saliti in casa hanno trovato un tavolino in vetro in frantumi e due borse da donna tagliate su un altro tavolo. La donna aveva dei graffi ad un braccio. L'indagine successiva ha permesso di documentare che le vessazioni sarebbero andate avanti da gennaio 2021, durante la convivenza il 54enne avrebbe più volte aggredito fisicamente e verbalmente la donna, oggetto di continue offese, legate anche alla sua diversa origine etnica, umiliazioni e minacce di morte. L'uomo adesso è indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con l'aggravante di essere stato abitualmente perpetrato per finalità di odio e discriminazione etnico e razziale e di lesioni personali aggravate. La Procura della Repubblica di Patti, guidata da Angelo Cavallo, ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale l'emissione della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare dell'indagato, con la prescrizione di lasciarle immediatamente e non farvi rientro e non accedervi senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura è stata eseguita da carabinieri della stazione di Patti.